Un altro nuovo importante traguardo per la Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights di Firenze, che ha inaugurato la International House Library, alla presenza del vice sindaco Dario Nardella e della scrittrice ed attivista per i diritti umani, Kerry Kennedy, arrivati su un'auto elettrica. Una biblioteca aperta a tutta la cittadinanza intitolata la memoria di Riccardo Garrone, che raccoglie libri e documenti in formato elettronico e cartaceo sui diritti umani, la storia della famiglia Kennedy e del suo movimento in favore delle persone più svantaggiate. Una biblioteca straordinaria dove le persone da tutto il mondo potranno venire a studiare e riflettere sui diritti umani. Un posto dunque di rilievo dal quale Kerry Kennedy ha voluto unirsi all'appello Bring Back Our Girls, restituiteci le nostre ragazze, lanciata dalla first lady americana Michelle Obama, per la liberazione delle 230 ragazze nigeriane rapite da Boko Haram. Un crimine contro le ragazze e le loro famiglie, un crimine contro tutte le donne che vogliono accedere al mondo dell'educazione. Noi abbiamo il dovere di fare tutto ciò che possiamo per riportarle a casa.